Questa nave mi è venuta costruendo una nave volante, cioè una nave piena di scaglie e poi dentro c'è inserito anche dei guerrieri. E certi buchi sono perché quando uno ti attacca te lo respingono e queste sono delle videocamere postate per vedere cosa succede, ci sono da tutte le parti. E non può fare solo questo, può anche aumentare la velocità con questi motori.